Come va? Come va? Ben ritrovati! Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like qui sotto ed iscrivervi da questa parte, attivate la campanella, siamo quasi 105.000! Forza, forza, forza e superiamo abbondantemente i 20.000 iscritti sul mio canale personale, qui sotto c'è il link. Vi ricordo anche di seguirci su Instagram, per provare a vincere la maglietta di Milanello seguiteci su Instagram, di Milanello, di Girù, e scaricate l'app di numero 10 gratuitamente ovviamente sul vostro dispositivo da questo telefonino, fatelo a scaricare anche amici e parenti così avete più possibilità di portarvi a casa la maglietta autografata in quella che potrebbe essere l'ultima stagione di Olivier Giroud e al pensiero io ancora non mi abituo. Vediamo un po' quali saranno le evoluzioni, potrebbe esserci un altro addio comunque, sicuramente, anzi sarà un altro addio comunque doloroso, ne parleremo in un video. Però andiamo sulle novità, parleremo molto dell'indagine, vi devo far vedere un documento ulteriore incredibile. Partendo da un presupposto, periodo di sosta, no? Sosta delle nazionali è il periodo di riflessione e ribadisco, guardando al futuro nostro ci saranno sicuramente tante 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 novità su più fronti. Innanzitutto, quello speriamo più vicino è il discorso dell'ingresso di capitali arabi nel Milan. Sappiamo che se questo si verificherà sarà il preludio poi a un passaggio di proprietà nel giro di un anno, un anno e mezzo, massimo due. E ribadisco, il nome del gruppo che entrerà sarà, con ogni probabilità, il nome del gruppo che diventerà il proprietario del Milan. Poi, ecco, la rivoluzione di Ibra, la svilupperemo in un video, cambieranno diverse cose anche a livello di dirigenza e questo cambio a livello di dirigenza potrebbe essere legato anche all'ingresso di capitali arabi. Inizialmente con la minoranza, ma con voce in capitolo, voglia di intervenire, di sistemare, di mettere comunque i propri uomini anche nella famosa cabina di comando. Un altro tema che sicuramente sarà molto caldo è quello dei rinnovi o delle cessioni. Abbiamo due rinnovi caldi, che non sono caldi perché sono trattative avanzate, ma sono caldi perché ci teniamo tanto, Mignan e Tevernandez, dopo che lo scorso maggio avevamo rinnovato Leao. Questi due rinnovi sono molto importanti, non facili, anzi, a oggi sono complicati, però anche qui il discorso arabo potrebbe aiutare a portare risorse anche per il rinnovo di contratto e quindi magari cercare di chiudere il mercato in uscita con nomi importanti. Perché no? Sarebbe bello confermare tutti i nostri top. E poi c'è il discorso mercato, un mercato che farai attraverso cessioni, attraverso riscatti di giocatori che sono andati in giro o magari metti tu risorse e cerchi di alzare il livello, un mercato che farai come e chi lo farà soprattutto? Questa è l'altra domanda, cui proveremo a dare una risposta nelle prossime ore con notizie importanti. Quindi il futuro non posso dire che sarà roseo, spero tanto sarà roseo, ma sarà sicuramente effervescente, ci saranno tanti e tanti colpi di scena. In un senso o nell'altro speriamo tutti positivi, sperando che ci possa essere un filo conduttore unico, cioè l'ingresso di capitali arabi che aiuterebbe sul discorso stadio, altro punto che dimenticavo, aiuterebbe sul discorso rinnovi, aiuterebbe sul discorso mercato, aiuterebbe magari a confermare certi big. Poi c'è un altro asterisco, lo chiamerei così, l'asterisco quello legato all'indagine sul mina che prosegue. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi, io ripeto lo definisco come un palloncino che piano piano si sgonfia, per poi finire nell'angolino della stanza, lì da solo, per finire nel dimenticatoio e diventare poi un lontano ricordo. Io oggi ho questa sensazione. Vi devo far vedere un altro documento incredibile a questo proposito e vado su un pezzo molto ben fatto, che voglio condividere con voi, di Cataldo Intrieri, un collega che ha fatto secondo me un approfondimento che merita di essere condiviso qui e che dovete condividere se vi va sui vostri social. Il titolo sull'inchiesta contro l'Egem è l'inchiesta contro il Milan allo specchio della giustizia italiana. La procura milanese ha ipotizzato un reato insussistente, ha iniziato con i sequestri senza la certezza che vi sia un valido motivo giuridico e lo ha fatto con modalità inquietanti. Tutto sulla pelle del Milan, nel dettaglio. Prima lui fa una premessa dicendo sono milanista da oltre mezzo secolo, però ho denunciato con questo coraggioso giornale i gravi torti della giustizia sportiva e il recato l'ha detestata Juventus. Ok, quindi dice sono milanista ma ho parlato così anche per quanto riguarda Juve, non lo dico perché sono milanista. Complimenti però perché sei milanista. In punto di vista di un garantista per il quale sul lavoro non contano le ragioni del cuore ma le opinioni maturate in anni di lavoro e che è sicuro che altrettanto valga per la particiosa procura milanese oggi guidata da un integerrimo magistrato, incidentalmente come ci dicono le cronache, acceso tifoso interista come abbiamo svelato noi, il dottor Marcello Viola al pari del presidente del tribunale Meneghino che potrebbe giudicare del caso Fabio Roja. L'iniziativa della procura di Milano, poi tra poco vi faccio vedere un altro documento, ve lo faccio anche ascoltare, è con il dovuto rispetto a dir poco sorprendente, quella sul milan. Si apre un procedimento per un reato palesemente insussistente, sequestrando indiscriminatamente il contenuto di telefonini, computer, documentazione varia, forse attenente al presunto reato, sicuramente contenente comunicazioni private, segreti imprenditoriali, materiale destinato ad essere riservato e che tale non è più, creando di fatto un danno. Il tutto spiace dirlo, senza la certezza che vi sia un valido motivo giuridico. Il reato ipotizzato è quello di ostacolo alla pubblica vigilanza, previsto dall'articolo 2638 del Codice Civile. Il punto, e noi siamo stati qui in presa diretta a denunciarlo, è che nel caso di specie non vi è nessun vigile pubblico. Tale non è la Federazione Italiana Gioco Calcio, la FGC, e tantomeno i suoi organismi di vigilanza, come la Covizoc, cui è demandato il controllo sulle strutture societarie e finanziarie dei vari club. La FGC non è organismo vigile pubblico, non è organismo giuridico pubblico. Le varie federazioni sportive che fanno parte del coniente pubblico sono associazioni di diritto privato. A stabilirlo con estrema autorevolezza sono state la Corte di Giustizia europea e il Consiglio di Stato. Con la sentenza del 15 luglio 2021, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che non è organismo di diritto pubblico, i sensi per gli effetti dell'Eccetera, eccetera, eccetera. Per inciso, la decisione è stata assunta in conformità a una precisa direttiva europea, cioè a un provvedimento di natura normativa sovranazionale, emessa dall'Unione Europea, cui l'articolo 117 della Costituzione italiana riconosce efficace applicazione nell'ordinamento italiano al pari delle sensazioni delle corti europee. Qualche giurista della domenica, di contrario avviso, sventano un'antica sentenza in una sezione della Cassazione unica e sola risalente al 2013, che ha riconosciuto natura pubblicistica alla funzione di controllo della società esercitata dalla Covizoc. Sarebbe dunque pubblica l'attività inollente, una visione che una quarantina di anni fa era tipica delle banche e enti private che svolgevano, secondo la giuriscrudenza prevalente, una funzione, il credito di pubblico interesse. Visione poi totalmente demolita dalle sezioni unite della Cassazione. Rimanete ben collegati. Qualcuno ha parlato di dubbi interpretativi nascenti da questa divergenza. In realtà non c'è nessuna incertezza per chi ha chiaro l'articolo 25 della Costituzione e il principio di legalità in base al quale un cittadino ha diritto a sapere prima le eventuali conseguenze criminose della sua condotta. A voler essere generosi, ove mai vi fosse un'incertezza sulla norma applicabile, essa va considerata in favore di chi agisce escludendo il dolo e dunque la pena responsabilità. la penale responsabilità. Non finisce qui. Quindi ci ha detto che questa indagine nasce su un presupposto che non c'è. Cioè che la FICC sia un organismo pubblico a livello giuridico. Quindi questa indagine non doveva nascere. Non doveva far emergere certi elementi, anche privati, come i dettagli di quel famoso testo legato all'ingresso di capitali dal mondo arabo. Non finisce qui appunto. Oltre alla carenza del presupposto normativo, l'azione della Procura milanese suscita perplessità per le modalità esecutive, vale a dire per il sequestro indiscriminato di documenti e comunicazioni riservate. Sul punto è intervenuta numerose volte la Cassazione sanzionando ciò che definisce i sequestri esplorativi, vale a dire l'acquisizione a strascico di materiale di prova non predeterminato. Il sequestro deve individuare in via preventiva l'oggetto dell'acquisizione se non negli estremi, almeno nelle caratteristiche ad esempio sequestrare comunicazioni avanti avendo un certo tipo di oggetto e non i messaggi come l'amoroso oppure riferiti ad altri affari. A quanto riferiscono le cronache, la Guardia di Finanza ha prelevato numerosissimo materiale tra cui a quanto pare la possibile prova di un'altra trattativa condotta per un possibile ingresso di un fondo arabo nella compagine azionaria. Ebbene, tutto ciò è illegittimo secondo la Cassazione non secondo me secondo la Cassazione oltre a costituire la violazione evidente del diritto alla riservatezza. In un paese contraddistinto da una stampa borbonica queste cose possono sembrare sottigliezze invece hanno a che fare con la libertà delle persone tutti compresi. E via infine e concludiamo e poi vi faccio vedere questo documento un altro aspetto inquietante che riguarda i possibili profili di intervento della giustizia sportiva in effetti potrebbe esservi il paradosso di un'inchiesta penale dichiarata come illegittima e basata su prove acquisite contro l'Egem che potrebbe fornire materiale per una sanzione sportiva. Quindi questa indagine che non doveva nascere che non dovrebbe esserci paradossalmente potrebbe fornire prove alla giustizia sportiva. Anche qui è tempo che le cose cambino come abbiamo spiegato parlando del caso dell'atleta sudafricana Carster Semenya che ha ottenuto un annullamento di una sanzione sportiva inanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani la CEDU ha affermato di avere voci in capitolo anche sulle sentenze sportive che vengono deliberate in un'istanza ultima dal tribunale arbitrario dello sport. Non può esistere in sostanza una giustizia sportiva sganciata dalla tutela dei diritti fondamentali previsti dalle normative internazionali alla faccia dei giuristi che si nascondono dietro la piaccola olimpica del barone de Coubertin. Questo è in ballo nel caso del Milan. Quindi ragazzi è un fatto grave scandaloso che evidentemente non ha elementi che si sta sgonfiando ma che nel frattempo ha creato un danno di immagine al Milan e fortunatamente da quello che ci arriva non un danno poi legato alle trattative con gli arabi. Fortunatamente altrimenti poi al momento non c'è ancora la fumata bianca ma pensate se saltasse anche questa il danno che avrebbe fatto. e la beffa può essere che tutto finisce in mano alla giustizia sportiva tutto quello che comunque non doveva essere neanche in mano alla giustizia ordinaria. Ok? Quindi è un fatto molto grave e se fare perquisizioni perquisisci quello che ti serve non tutto ma devi avere degli elementi in mano e soprattutto una indagine deve nascere per un presupposto che in questo caso non c'è perché la FIGC non è un organismo pubblico. Punto! La cosa fa arrabbiare a giorni posteriori fa ulteriormente arrabbiare. C'è un altro elemento ovviamente essere tifoso dell'Inter o essere tifoso del Milan non è uno svantaggio non è un difetto né un vantaggio però ecco ci deve essere l'imparzialità sempre no? Vi ricordate l'altro giorno avevo denunciato un documento in cui in un video di 13 anni fa comunque attuale il procuratore Marcello Viola si dichiarava un tifoso interista canito questo studio pieno di magliette dell'Inter lui che incontra poi successivamente Marotta Ausilio lui che va allo stadio lui che ha foto con tutti i giocatori dell'Inter ecco il tema Inter nella sua vita è talmente importante che poi c'era stata anche un'altra in un'altra intervista si era parlato lui aveva parlato della fede interista qui non è una cosa secondaria ve la faccio vedere ecco poggio qui il microfono recupero l'intervista e questo è un altro documento quindi non ha parlato una volta di Inter più volte vabbè Marcello Viola io so che riesce a trovarsi degli spazi solo per l'Inter indipendentemente dalla tua professione la sera dalla partita dell'Inter e quella non deve mancare perché è occupatissima dell'Inter ma come me l'Inter non il Palermo non so io lo so tra questo che non sono palermitano mi roberta tanta foto ma quando ero bambino io non vi erano grandi alternative a una squadra non c'erano in Sicilia il Palermo è il Palermo quindi arriva la scuola io lo so andavo a una squadra per il Palermo però c'era la grande Inter di Elenio Herrera 7,11 facchetti eccetera quindi se il pacitarista lui è stato da bambino da bambino quindi è costante nella scuola quindi ma ripeto non è una colpa non è una colpa un procuratore può avere una sua fede però se un procuratore ha una fede talmente così evidente spiccata è legittima capite che poi o fai un'indagine vera che ha le gambe e cammina e va veloce oppure ecco uno può pensare anche male è legittimato a pensare male o comunque legittimato a non sentirsi tutelato e a sentirsi vittima di qualcosa che ripeto oggi si è sgonfiato e che non doveva neanche esserci cioè comunque un procuratore ultra interista fa un'indagine che non doveva neanche nascere guarda caso sul Milan ragazzi non è una cosa tanto normale ma anche se fosse un ultra milanista a fare un'indagine sul Milan che non puoi fare non devi fare se sei un'indagine interista è chiaro che uno può essere legittimamente anche un po' malizioso e forse ripeto non era la persona per fare quell'indagine o meglio non doveva neanche aprire quell'indagine perché poi un procuratore è persona rispettabilissima professionista rispettabilissimo però è anche dietro un essere umano un essere umano con i suoi gusti le sue debolezze le sue preferenze e ragazzi l'Inter è una cosa ricorrente nella sua vita ma soprattutto questa indagine non doveva neanche nascere chiaro per tutti e la situazione è diventata grave non per le conseguenze speriamo ci auguriamo ma per quello che è accaduto ditemi che ne pensate condividete questo video sui vostri social ripeto è un fatto molto grave sulla pelle del Milan commentate lasciate un like iscrivetevi sarebbe bello vedere magari il procuratore Marcello Viola porre una lente di ingradimento anche su certe situazioni magari legate all'Inter su Zanga ad esempio quello che di materiale magari per riflettere ce ne possa essere di ingradimento di ingradimento Grazie.